Ciao e benvenuti su Top Tech Italia. In questo video vi presenterò stando ai nostri gradimenti personali le migliori pistole da massaggio del 2022. Mettetevi comodi e iniziamo! Al quarto posto abbiamo selezionato la pistola per massaggi o pove. La pistola per massaggio o pove incorpora la tecnologia di uscita della coppia. Ciò significa che l'azione centrifuga del suo blocco eccentrico aumenta la forza di uscita del motore. In questo modo quest'ultimo fornisce una forza d'urto iper-efficace. Si beneficia quindi di un massaggio muscolare molto più mirato e preciso. Questo dispositivo è dotato di un potente motore magnetico senza spazzole che incorpora 6 batterie a litio ricaricabili da 2500A. Ciò consente di godere di un'autonomia da 4 a 8 ore di lavoro. Questa pistola è realizzata in materiale plastico rinforzato con fibra di vetro e nylon. E quindi di buona robustezza, durevole e con un'elevata resistenza alla caduta. Potrete utilizzarla per molti anni. Andando sempre nella direzione del design, il produttore Apex o pove ha adottato per questo modello una struttura interna di alta precisione. Il guscio esterno è realizzato con materiali anticaduta e fonoassorbenti. Come sempre su Top Tech Italia, se volete avere maggiori dettagli sulle caratteristiche tecniche, beh, cliccate sui link nella descrizione, mi raccomando. Al terzo posto abbiamo selezionato la pistola per massaggi Teragun. Si tratta di un modello di pistola per massaggi che si presenta in formato tascabile e che si posiziona come partner del benessere quotidiano. Con essa sarete in grado quindi di eseguire trattamenti efficaci, perché si tratta di uno strumento incredibilmente portatile. Tanto compatta quanto potente, questa Teragun è uno dei massaggiatori più agili disponibili per permettervi di beneficiare dei trattamenti ogni volta che ne avrete bisogno. Questa Teragun è richiesta ogni giorno da molti fisioterapisti, allenatori, chiropratici e atleti professionisti. Basti dire che sono migliaia e tutto il mondo ad averla scelta come migliore pistola per massaggi del 2022. Progettata e sviluppata dal dottor Jason Wersland, tutti gli aspetti della Teragun sono stati attentamente studiati per ottenere un dispositivo unico a livello di dimensioni, maneggevolezza, leggerezza, efficienza e comfort. Infatti è uno strumento che si infila facilmente nello zaino o nella borsa. Grazie alla potenza della tecnologia QuietForce del suo motore potrete beneficiare quindi di un trattamento efficiente e silenzioso. Al secondo posto abbiamo selezionato la pistola per massaggi MEBAC. MEBAC è un'eccellente pistola per massaggi terapeutici che migliora efficacemente la salute dei tessuti molli umani. Previene le infermazioni dovute all'adesione tra muscoli e fasce. Affino a 6 testine per il massaggio manuale di diverse forme. Ciò consente di toccare qualsiasi muscolo e di alleviare più parti del corpo durante il massaggio. È quindi perfetto per massaggiare braccia, schiena, collo e gambe. Con una gamma di velocità oscillante tra i 1300 e 2700 giri al minuto tocca tutti i muscoli del corpo e soddisfa le vostre aspettative in termini di massaggio quotidiano. Questa pistola incorpora un motore brushless da 30 watt ad alta coppia quindi si può beneficiare delle sue elevate prestazioni a basso livello di rumorosità. Potrete quindi utilizzarla sia in palestra sia a casa sia in qualsiasi altro luogo senza dover arrecare danno a chi vi circonda. È un modello adatto ai professionisti come terapisti, atleti e chiropratici. E ti ricordo che per ottenere i migliori sconti che abbiamo selezionato per te su internet, clicca sui link nella descrizione. Lo hai già fatto? Al primo posto abbiamo selezionato la pistola per massaggi DELT. Questo dispositivo di massaggio a percussione rilassa i muscoli rigidi e doloranti per una migliore mobilità nei movimenti quotidiani. La migliore pistola per massaggi del 2022 di questa classifica è compatta, leggera e ha fino a 5 velocità che possono raggiungere i 3200 giri al minuto. Si tratta infatti di un dispositivo silenzioso che massaggia i muscoli in profondità. Inoltre incorpora una batteria ricaricabile agli ioni di litio da 2500 ampere, il che è sufficiente per effettuare un massaggio completo senza interruzioni. Possiamo anche notare che questo modello ha 5 testine intercambiabili. In questo modo si ha quindi la libertà di scegliere i massaggi in base alle proprie esigenze specifiche o anche per gruppo muscolare specifico. Ora quello che ti invito a fare è molto semplice, iscriviti al canale, lascia un like, attiva la campanella e segui tutte le novità targate Top Tech Italia. Alla prossima, ciao! Grazie a tutti!